Perchè mi hanno fatto fare un'altra LPS a visi con te? Ma non lo sai, io sono creativa! Sono viva, non ti preoccupare, è questo che mi preoccupa, tu sei sempre viva! Ma quella è droga? No! No non è droga! Sicura? Ma certo cara! E ciao a tutti amici e amiche e benvenuti, ciao a tutti amici e benvenuti in questo nuovissimo! Io sono Claudia LPS e oggi siamo in un nuovo video! Ah visi! Sì, vi daremo anche delle informazioni! Ma va! Comunque, volevo dirvi che io sono molto felice! Grace? Quanto è bella la droga! Vabbè non importa! No, no, no! Eccomi, eccomi, ci sono, ci sono, ci sono! Ti pare che non c'eri? Io ci sono sempre! Allora, prima di tutto, io sono già registrato questo video in vacanza, e volevo dirvi che, che volevo dire? Ah, volevo dirvi, allora, voi, voi iscritti al mio canale, volete essere chiamati i miei piccoli trovermi perché io ormai faccio una serie sui proverbi e, a proposito, ho materiale per altri due episodi esattamente, perciò se li volete lasciate un pollice e volete essere chiamati i miei proverbi oppure i miei occhioni e perciò ogni iscritta si chiamerà occhietto oppure proverbio ecco, decidete voi e... scrivete proverbi o occhietto e... muori! devo darli io gli avviso adesso Allora, qualche altro volevamo dirvi Ah no! Volevamo dirvi che la serie Beautiful Mas... Joel Friends o Beautiful Mas? non capisco, sono confusa sì, dalla droga arrivo ecco, ecco magari non ci fosse Grace però, lasciamo stare Joel Friends continuerà molto molto bene e... però, prima voglio fare qualche fan i video, insomma dai, da un po' che non li faccio e già ne ho preparato uno e... poche altro che volevo dire e... vi volevo dire vi volevo dire che la droga è buona molto buona ma io non la prendo non stavo prendendo droga figuratemi se io prendo la droga Gianni! Gianni! dopo mi dai le pannocchi dopo mi dai le pannocchi ok? ok, ciao, ciao sì, ciao Gianni me la devi dare prima a me magari non esistesse fiocco di neve magari e... fatemi un po' vedere che altri avvisi ci sono qui ah sì allora dopo diciamo i due episodi i proverbi perché ho materiale per due episodi mi dovete scrivere sotto nei commenti dell'ultimo video e... dell'ultimo video perciò il... quinto il quinto episodio di se i proverbi fossero le reali e... alcuni proverbi che conoscete voi e che io non ho fatto esattamente e... sono diventata molto seria sono diventata molto seria voglio un bicchiere d'acqua voglio un bicchiere d'acqua voglio un bicchiere d'acqua vedemi questo bicchiere ehi sono qui sotto ehi ciao io sono Melody volevo dire soltanto una cosa volevo dirvi che... che... volevo dire che stiamo registrando un'altra serie esattamente un'altra serie di... patch shop ovviamente e un'altra... appunto un'altra serie chiaro? e... che mi va col file cargerò questa chiaro? adesso questo non lo devo dirvi perchè... perchè lo dico io? lo dico io perchè la cara vecchia Grissi ecco è deceduta per la droga e Fiocco di Neve sta inseguendo Johnny perchè ha finito la droga e lei non le può più avere io non capisco come facciano queste due con tutta questa droga però... beh... ci si campano un saluto da Melody ciao voglio morire prima qua gli sparo Johnny tu resti qui bella morta e gli faccio gli avvisi spero che Melody sia già passata se Melody è già passata beh... ve l'ha già detto quindi... bene se non è passata vi scriverò il suo avviso qui sotto quindi... ma perchè ci sono questi amori proprio adesso? ve lo scriverò qui sotto in descrizione mi si muove troppo la sedia il tavolo è troppo lontano ecco... ecco ecco ecco... 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 Volevo dire che il 14 settembre sarà il mio compleanno e ci sarà uno speciale, appunto speciale compleanno, in cui aprirò i miei pacchi di LPS perché mi arriveranno 5-6 pacchi di LPS e li aprirò con voi. Io non so che LPS ci siano dentro perché me li devono regalare, insomma, li ho chiesti però non ho chiesto determinate cose, so solo che ci saranno un bassotto e un Green Day, ossia quel cane con le orecchie a punta, adesso mi metto una foto, ecco questo, oh no avete sbagliato foto, ecco questo qui è il Green Day e io prenderò questo. Grazie a tutti